Edoardo copre la telecamera del Grande Fratello VIP e lo fa per nascondere Antonella Fiordelisi, proprio come io sto facendo con voi. Sì, però io la levo perché non so Edoardo, e vi do il benvenuto a tutti quanti qui su Pausa Caffè Live. Per chi non mi conoscesse, io sono Max, e parliamo di Grande Fratello, perché ci sono un sacco di aggiornamenti, ci sono tutti i giorni, quindi se tu sei interessato al Grande Fratello o a tutto ciò che ruota intorno, come la Vodafone alla televisione e il mondo dello spettacolo, puoi iscriverti al canale oppure seguire la pagina. Detto questo, da ormai un mesetto i due concorrenti, quindi parlo di Antonella Fiordelisi ed Edoardo, praticamente stanno insieme e continuano così, tranquilli, beati, la loro storiella tra le mura della casa più spiata d'Italia. Le telecamere sono ovunque, 24 ore su 24, lo sappiamo, e ovviamente in questi ultimi tempi, queste ultime settimane, i due sono stati notati in atteggiamenti... e ci siamo capiti. Dopo giorni di corteggiamenti e gelosie, tra i due è scattato subito il primo bacio, e non solo quello, ma i due geffini si sono lasciati andare a momenti di incontenibile passione, e uno in particolare non è sfuggito alle telecamere e ai telespettatori, anche perché è accaduto in giardino, sì, cosa che non doveva succedere, ma di fronte agli altri concorrenti. Edoardo, Donna Maria e Antonella Fiordelisi, dopo alcuni baci appassionati, si rannicchiano insieme sotto un piumone. Sapete, sotto il piumone, quando c'è il piumone non si vede nulla perché c'è il piumone, quindi hai modo di poter fare quel che non potresti fare, no? E si comincia sempre da alcune coccole. Proprio grazie alla protezione garantita della coperta verde, i giovani si sfiorano in zone abbastanza proibite, e ovviamente il giro del web è assicurato su queste cose, scatenando però non poche polemiche. Sì, molta gente ha avuto da ridire. Un altro video poi ha immortalato tutti e due, ma questa volta non c'è niente di hotshot. Edoardo copre la telecamera del grande fratello per nascondere Antonella Fiordelisi, che si toglie le extension dei capelli per poterle lavare. I due sono nella sala da bagno davanti agli specchi e chiacchierano del più e del meno in maniera abbastanza beata e tranquilla, ma una certa Antonella gli confida di non voler essere ripresa dalle telecamere, dicendo «Mica qualcuno mi sta guardando adesso che mi levo questi capelli finti!» «Che magari stanno inquadrando loro che giocano a biliardo, boh, non so, e speriamo che non mi inquadrano!» «Non mi inquadrate, eh? Grazie!» «Eh sì, una cosa è averle fisse, una cosa è averle così!» E infatti è qui che proprio alle parole di lei Edoardo agisce, nel senso che va appunto a coprire la telecamera in modo che non si vede assolutamente più nulla. Subito però c'è stato l'intervento da parte della produzione che ha sgridato Donna Maria e intimato di non coprire mai più le telecamere. Effettivamente, signori, fa parte delle regole del Grande Fratello, cioè devi essere spiegato qual è il simbolo del Grande Fratello. È proprio l'occhio, l'occhio ma l'occhio che ti guarda 24 ore su 24 e quindi non puoi da regolamento togliergli questa possibilità. Non credo che ci sarà una squalifica per questo, però una bella strigliata ci sta. Detto questo, per questo che è successo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima come sempre, sempre su Pausa Caffè Live!